Buongiorno a tutti, oggi vi propongo in affitto un appartamento sito a Pavia e più precisamente ci troviamo dietro la stazione, quindi siamo a metà tra gli istituti scientifici e quelli umanistici. Via Riviera, a 5 minuti dal centro storico, si tratta di un appartamento con 3 camere da letto, cucina, bagno e un balcone. Qua è stato completamente arragato, riscaldamento sinicentralizzato, abbiamo queste termovalvole, quindi a seconda di quello che andrete a consumare pagherete riscaldamento. Poi questo balcone, in fondo c'è il motore dell'aria condizionata perché questa casa l'aria condizionata, poi in più abbiamo anche le zanzariere a tutte le finestre, che qua paghia le zanzariere servono. Perfetto, adesso vedete un po' di scopi prodotti per pulire perché è in fase di pulizia generale. Cucina abitabile, va bene per 4 persone, il tavolo, questo frigo, nel lato sinistro fa da freezer, e quello destro da frigo normale. Abbiamo ancora il balcone che vi ho fatto vedere nell'altra camera da letto, lo stesso, ok. Niente, cucina, c'è tutto, quindi abbiamo pensili, lavandino, boiler dell'acqua calda e a gas. Poi abbiamo compreso, come vi dicevo, il riscaldamento che è semicentralizzato, l'acqua fredda, l'ascensore, perché è un terzo piano con ascensore, avrete soltanto a parte la luce, il gas dei fornelli, il boiler dell'acqua calda e l'atari. Ecco lì il condizionatore, c'è un unico condizionatore per tutta la casa. Questa è la stanza più piccolina, però ovviamente più piccolina, hanno messo qualche mobiletto in più. Comunque anche qui una camera per studenti. Adesso andiamo a vedere la terza e ultima camera da letto. Ah no, prima c'è il bagno. Bagno è questo, questa lavatrice fa da lava e asciuga, ok. Poi abbiamo la vasca da bagno con questa parettina per non allagare quando uno si lava e si fa la doccia. Ed infine, camera da letto, ultima camera da letto. Diciamo anche questa qua è stata redatta con tutte le cose che servono agli studenti. Perfetto, allora se sei interessato a questo immobile mi puoi contattare al 339-1916-332, allegrone immobiliare. Grazie a tutti.